Sono un paio di giorni che sta piovendo ininterrottamente, vi vogliamo far vedere che cosa è succedendo. Questo signori è il parco La Golena. Naturalmente tutto quello che vedete Acqueo fino a un paio di giorni fa era un parco. Quindi qui vengono famiglie, vengono bambini, vengono amici per passare una bella giornata di sole, mentre come vedete qui di sole ce n'è poco e di acqua ce n'è tanta. Ed eccoci signori alla diga del furlo, facciamo vedere quello che sta succedendo. La potenza dell'acqua è veramente, veramente tanta, anche il rumore. La diga del furlo è sempre più aperta, viste le piogge. E ecco lì, vi facciamo vedere il fondo. E questo signori è lo spettacolo della natura.